Tra un po' diranno anche che il sì serve per vincere il campionato di calcio, non lo so, mi sembra per tutto. Noi abbiamo di fronte una riforma costituzionale al fianco della quale c'è un nuovo sistema elettorale. In questa riforma si accendono delle luci, anche condivisibili, l'abolizio del crnello e quant'altro, ma sotto il punto fondamentale è una redistribuzione del potere che è l'accento di una sola persona, il capo del partito che vince le elezioni, qualsiasi partito sia. Questo esponente non passa attraverso nessuna elezione, perché il primo ministro inglese passa attraverso un'elezione nel suo collegio alla Camera, il presidente americano o il presidente francese vengono eletti, non passa attraverso nessuna elezione e però può nominare 100 parlamentari. Quindi il nocciolo della riforma è l'accentramento del potere nel leader del partito che vince le elezioni. Chiunque fosse, chiunque sia, a me non va bene. La giunta regionale come il governo nazionale farebbe meglio a occuparsi dei problemi che dovrebbero riguardare chi governa. Invece abbiamo sia governatori regionali al sud sia un governo nazionale che sembra molto interessato a procurarsi voti per il sia referendum con i metodi più vari. Il no serve a dire basta con questa politica, rilanciamo la forza della Costituzione, diciamo no a un taglio del potere dei cittadini, a un Senato che sarebbe frutto di accordi oscuri tra i partiti regionali, a una riforma che toglie potere agli enti locali. Dalla Mezzia Terme per la Cinews 24